Salve a tutti, volevo chiarire una cosa, è successa una cosa un po' sbagliata, esattamente proprio ieri sera ho pubblicato un video che riguarda la cancellazione del programma Parlemone Sabato di Paola Perigo. Allora ho detto che l'argomento era quello che le donne italiane erano state così denigrate, allora non è affatto così, infatti devo correttificare quello che ho detto, perché ho visto la grafica, l'ho studiata bene, ho rivisto il programma e il fatto è lì che lì si decantava appunto il comportamento delle donne dell'est, creando così dissapori da parte delle donne italiane. Allora è vero, quindi scusate se ho sbagliato, scusate se mi sono permesso di dire una cosa fuori luogo, però evidentemente sono stato preso dalla voglia di fare un video e quindi mi sono trovato in difficoltà. Quindi chiedo scusa a tutti, ma comunque ribadisco il fatto che mi mancherà tantissimo, parliamo nel sabato perché finalmente era un talk show importante, finalmente era una cosa simpatica, che si vedeva con piacere e quindi mi dispiace che non sia più in onda per colpa di un piccolo diverbio, una situazione un po' sbagliata data dalla coduttrice che non c'entra nulla con quella statistica, perché quella statistica è stata creata da enti proposti che fanno questo, preposti, scusate fanno questo proprio parlando di quello che accade nel mondo e quello che accade in Giaccia. Esistono tanti sondaggi anche molto più inutili di questo, questo effettivamente ci sta, un pochino ci sta, non posso biasimare queste parole, perché comunque sappiamo bene che le donne italiane a volte sono proprio delle rompipalle, scusate, mi permetto. Comunque, questo è un messaggio di rettifica, mi auguro che sia stato chiarito tutto e mi auguro che nessuno, siccome ho avuto molti segni di così non tanto d'accordo con quello che dicevo, qualcuno ha anche commentato, qualcuno ha detto anche delle cose un po' cattivelle, e quindi mi andava di chiarire questa cosa per farvi capire che non sono così stupido. Io sono un blogger, però evidentemente molte volte mi perdo in delle cose un po' sbagliate. Vi saluto, vi abbraccio e a presto. Baci da Armando Sanchez. Ciao!